Passare la moto ho avuto fin da piccolino che mio papà aveva comprato il primo motorino con le hotelle, poi il Grizzly e poi ho sempre preso un moto da strada così. Poi ho smesso per un po' di anni perché ero impegnato con il lavoro, facevo la linea e poi mi è ritornato ancora alla voglia e ho preso il Kawasaki. Poi guardando su Facebook ho conosciuto Fabio e ho avuto tre anni che muoto e ho a che fare con Fabio. Ma io ho sempre dovuto muoto in linea, ha parlato e mi ha detto prova da Ducati e me l'aveva data una in prova nel 2018 e dopodiché ho deciso che volevo prendere la 2022, poi 2021, però l'abbiamo sofferta che non arrivava mai, è uscita questa e mi sono innamorato perché è nera, a me a rossa rossa non mi piaceva tanto e ho deciso questa qua e ho aspettato che arrivava e boh. E mi ero messo d'accordo con Fabio, all'inizio voleva mettere su Termignoni, però a me piaceva già dall'inizio l'SC che era l'unica che le faceva, che usciva così, poi quando è uscita a Grapovic ho detto no, preferisco questa e abbiamo deciso assieme di mettere su questa e fare quelle modifiche che lui sai che c'è più accorgimento, che le fa un po' racing, che è un po' anche di bellezza. Fabio è una persona con le moto, le passioni, se ne intende, corre, va in pista, quindi ti dà delle mani rispetto altre ufficine che, non so, non so come spiegarti, lui facendolo ha l'amore e tutto, ti trasmette un po' la passione, ti fa vedere, voglia di farlo, ma anche se per caso certe cose non è neanche in mente, perché io non è che sono un racing, un'artista e tutto, però ti fa vedere così e ti trinendo, vedi che è una cosa bella e da giù da giù la fai, com'è che ce l'ha in mente lui da finire. Qua è come il paese dei malocchi, vieni qua, scegli una moto e la prendi, non è come andare nel concessionario normale, vieni lì e devi andare lì in mirato, perché vuoi la BMW, vuoi la Yamaha, vieni e alla fine c'è tutto, poi io decidi quello che è il mio, io l'ho presa così, venire qua. Moto Argento è specializzata nella vendita di moto supersportive e naked, ed oltre alle vendite offriamo una vasta gamma di servizi per coccolare e migliorare la tua moto. Moto Arte Vendita Moto Museo Assistance Dedication Performance Engineering Technical Race Suspension Premium Deluxe Tutto questo è moto argento, amore, passione, dedizione, sempre.